Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale e vi dovrei dire buonanotte, visto che è già tardi. Andiamo con un altro interattivo di quelli richiesti da voi, famosi interattivi gratuiti, che si continuano a fare e si faranno sempre, purché la domanda sia generale e permetta di creare comunque un video. Per i consulti privati potete contattare l'email, sia per l'astrologia, per le stesure di tarocchi, di carte, e per la numerologia. Detto ciò, per novembre ho ancora due giorni liberi, visto che mi avevano chiesto le disponibilità. L'interattivo di oggi, anzi l'interattivo di questa notte, come annunciato nella community, andrà a domandare alle carte cosa trova, cosa vede in lei e se resterà con lei. Ora, dovete contestualizzare voi, si può trattare di il padre con una nuova donna, si può trattare di il vostro ex con un'altra donna, il vostro marito con l'amante, il vostro amante con la moglie, il vostro figlio con la compagna, cioè questo noi non lo sappiamo, io non lo so e lo dovete decidere voi. Visualizzate la situazione, visualizzate i personaggi, prendetevi tutto il tempo necessario, scusatemi un capello, e noi andiamo, iniziamo comunque con la stesura, con la lettura delle tre varianti, e direi di accantonarne, c'è la variante, faccio vedere prima, l'azzurra, le alzo di modo che poi con i titoli non vengano coperte, la variante verde, la variante rosa o fucsia, le gommine. Allora, accantoniamo due varianti e iniziamo con quella fucsia. Allora, via, la variante verde e la variante azzurra. Qui mettiamo la gommina, in modo che sia ben visibile. Innanzitutto, con le prime tre carte, cerchiamo di inquadrare il tipo, la tipa di cui stiamo parlando. Vediamo un po' com'è questo personaggio. Allora, abbiamo un personaggio solitario, introverso, di quelli che dovete tirargli fuori una parola proprio con le pinze. Però è anche un tipo, sapete quando si dice, fa lo scemo per non andare in guerra? È vero che è una persona molto solitaria, un solista anche nelle azioni che compie, però a volte si approfitta di questa, diciamo, di questa nomea che ha per evitare di prendere una decisione. Lui sta lì, disteso, così come su questo, questa sorta di altare di pietra, ma non è morto. È lì e non sta neanche dormendo, perché riposare su questo altare in realtà sarebbe troppo scomodo. In fondo anche lui sta sulle spine. Abbiamo queste spade, il suo quattro di spade, lui che dovrebbe prendere una decisione, non la prende e si attarda, anche se scomodo, su questa pietra. Quindi potrebbe anche essere una persona che in realtà non ha prettamente deciso tra lei o voi, ma che semplicemente continua a stare nella situazione in cui sta, perché è meno faticoso che non prendano una decisione. Andiamo a vedere però un attimo anche le altre carte. Contestualizziamolo un po' meglio. Sì, perché vedete, anche la carta del benessere ce lo conferma. In fondo lui non si muove come questa fanciulla. Vedete, le due carte ci rappresentano, ci raffigurano due personaggi che stanno però come annoiati. Questa è più annoiata, l'altra era proprio una sorta di occhi chiusi per riflettere, ma non un sonno ristoratore. No, uno stare lì a pensare, però non fare nulla. E anche qui c'è una sorta di noia, stare lì stravaccati a terra. Sì, in fondo però, se mi manca l'altra, però qui sto bene. Dovrei lasciare il posticino sicuro per avventurarmi chissà dove. Qui non mi manca nulla, ho da mangiare, ho da bere, ho gli sfizi, i vizi. Sono il re della casa, la regina della casa, e anche se in fondo sentimentalmente sto peggio qui che non con l'altra persona con cui vorrei essere, no, io sto bene. Questo è il tipo di personaggio. Vediamo la terza carta. Eh sì, perché per questo personaggio è molto importante la materia, i beni materiali. Il contesto è molto molto importante. Cioè lui si muove solo se ha la certezza di ottenere qualcosa di meglio, non dal punto di vista sentimentale. Quello lo sa già prima, ma non è la cosa che gli importa di più. Lui vuole avere il meglio dal punto di vista materiale ed è anche uno molto viziato o una molto viziata. E la colpa però è anche di chi ha voluto bene e vuole bene a questa persona, perché secondo me da tutte e due le parti, sia voi che l'altra persona, date troppo. Cioè è uno che in fondo se neanche un pochino approfitta della situazione in cui si trova. E quindi prima di poter avere la certezza di passare da una condizione X ad una X più, una migliore, questo non si smuove. Cioè questo parte solo se ha la certezza di vincere e di ottenere, di non correre nessun rischio. Cioè lui va già vincitore, questo è il senso, non corre rischi, non azzarda. Vediamo cos'è però, cos'è che trova il lei o il lui nella persona che lo trattiene in questo momento con la quale lui si trova. Allora, la persona con cui sta è comunque una persona nella quale lui si rispecchia molto. Ci si identifica. Io credo che non ci sia neanche un grande dialogo tra di loro. In realtà c'è una comunanza e una comunione di vizio e virtù. Cioè nel bene e nel male si somigliano tanto. Si somigliano tanto nelle cose negative e tanto nelle cose positive. Ora, se siano più le negative o le positive, qui non lo sappiamo ancora. Però hanno gli stessi ritmi, gli stessi orari, lo stesso modo di pensare. Magari se lui è pigro, l'è pigra come lui. Questo è il punto. Sono molto 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 simili e hanno una cosa, hanno una leggerezza che gli appartiene che è anche una sorta di frivolezza perché lui non vuole pensare ai problemi. Non li vuole affrontare. E questa donna o quest'uomo, a seconda che voi siete uomo o donna, e a seconda di chi avete visualizzato, non gli chiede conto. Cioè facciamo un esempio. O magari con voi si comportava così, ma a un certo punto voi lo mettevate davanti la necessità di prendere una decisione. Quella famosa decisione che lui non prende rimanendo disteso sull'altare di pietra. E dove è titubante, dove è annoiato, dove non si muove. Ecco, quest'altra persona in realtà non gli chiede di prendere nessuna decisione. Ecco perché lui si trova meglio. E questo è uno dei motivi che vi attrazione, è uno degli aspetti positivi che lui trova in lei o viceversa. Qui comunque c'è un progetto in comune. Tutte e due hanno, oltre che concordanza in intenzioni, vizi e virtù, hanno anche qualcosa in mente di comune. Stanno lavorando a qualcosa che forse non hanno neanche detto a nessuno. Io non lo so se voi vi è giunta notizia, sapete qualcosa, avete qualche informazione. Ma c'è qualcosa che loro fanno insieme. E questo è un altro motivo che lo trattiene lì e che qualcosa di lei che lo trattiene, o di lui. Che lo prende, lo prende molto, o potrebbe essere magari un lavoro, o anche un imbroglio, non lo so. Qui c'è qualcosa che loro stanno architettando da tempo, ma da tanto tempo. Ed è un qualcosa di cui non parlano molto. Però che li trovo uniti anche in questo caso. Comunque c'è una, sicuramente tra queste persone, un'altra cosa che lo colpisce dell'altro individuo. Chiamiamolo individuo perché non so più se parliamo di uomo o donna, giustamente qui. Ci sono tanti personaggi, però ciascuno di voi avrà focalizzato l'attenzione più su uomo o più su una donna. Comunque, diciamo, la terza persona ha sicuramente un modo di fare allegro, gioioso e di quella frivolezza leggerissima che non chiede conto di nulla e che non impone doveri, che a lui fa comodo. Lui sta bene là, se la canta, se la suona, gli altri fanno quello che vogliono. Cioè non ci sono mascherità di loro, sono nudi nei vizi e nei difetti, nelle virtù, nei pregi, in tutto. Io penso che siano anche molto mondani e, in un altro aspetto, la mondanità è un altro aspetto che lo prende molto. Questa capacità di scivolare sulle cose. Magari a voi vi avrà anche riproverata di essere a volte troppo pesante, troppo precisa, troppo seria, troppo impegnata, di essere un qualcosa che gli mette ansia. Lui vuole vivere in maniera più leggera, vuole stare più sereno, più tranquillo. Adesso non ci voglio pensare. Vorrebbe anche avervi detto queste frasi qui. Continuiamo a vedere un pochino. Però c'è un legame. Comunque, un'altra cosa e soprattutto la seconda domanda è se lascerà, o meglio, se resterà con questa donna o quest'uomo. Qui il legame c'è ed è forte ed è un legame anche di sudditanza. E questa sudditanza può dipendere anche da quello che abbiamo detto. Che comunque lui si trova bene nella condizione in cui è. Perché non gli manca nulla, diciamo, del necessario, di quello che lui serve per condurre una vita adeguata per come è lui. Non è un uomo di grandi richieste, in che senso? Lui vuole il minimo sindacale, però non vuole che gli venga chiesto di fare nessuno sforzo. Quindi a lui va bene anche questa prigione. Lui si adegua benissimo. Gli sta bene anche il legame che sia un legamento. Gli sta bene anche la catena. Come quei cagnolini che in fondo gli basta quel pezzetto di prato in cui sono. Perché hanno uno spazio per giocare, uno per fare la pipì e non confondere le due cose. Ogni tanto vengono portati col collare a spasso, vengono mostrati, magari vengono anche curati e portati alle mostre. Però sempre mezzi schiavi, diciamo, mezzi controllati sono. Così vivono. E comunque no, non la lascia anche perché lei non lo perde mai di vista. Lei comunque è anche artefice di questo legame. L'ho detto loro in vizi e virtù, in pregio e difetti si identificano molto. Quindi comunque sono fatti un po' della stessa pasta. Probabilmente ci sarà anche una precondizione karmica per cui debbano trascorrere questa esistenza, almeno in questo momento assieme. Però questa è una persona che non lo lascia andare da solo. Io non credo neanche che l'altro possa uscire più di tanto o frequentare amici da solo. Io immagino che loro vivano proprio in coppia, quotidianamente, cioè fanno le cose insieme. Se c'è l'uno c'è l'altro, se non c'è l'uno non c'è neanche l'altro. Comunque questo legame è molto stretto, è un legame reciproco. Però si vede molto probabilmente che, e qui mi dovete dare conferma a voi, questa conoscenza ha avuto vita facile all'inizio. Date la leggerezza a questa coppa. Perché è come se l'altra persona è entrata nella vita della persona a cui state pensando all'improvviso in un momento di stanchezza e di noia. Torna la noia di prima. Cioè magari c'era qualche piccolo problemino tra di voi. Però è una cosa superabile in maniera abbastanza semplice. Che avete superato tante altre volte. Cosa è successo però? Questa volta è entrata questa persona, con la sua energia, con il suo promettere senza nulla chiedere. Con il suo puoi dare poco ma pretendere ancora di meno. È sembrato un raggio di sole nella vita di questa persona che ha fatto i bagagli, se n'è andata e adesso sta con l'altra persona. Cioè è stato un alibi per la persona a cui pensate, per non dover affrontare i problemi o comunque non dover affrontare questioni serie con voi. E lui se n'è andato per questo, lei se n'è andata per questo. Perché gli ha fatto comodo, semplicemente gli ha fatto comodo. E ciò che lui apprezza, lei apprezza, è proprio il fatto che non gli venga richiesto nulla, soprattutto nessuno sforzo. Innanzitutto ecco voi. Vediamo un pochino cosa le carte ci dicono sulla consultante. Amabilità. Questa carta era venuta a dire. È gioia. Eh no, è timidezza. Scusatemi. Eh sì, molto probabilmente il confronto con voi è stato un confronto sull'esuberanza. Voi eravate timida, siete magari un po' timidi, un po' chiusi in voi, ma perché siete persone che ponderano molto, che pensano molto, che prima di agire o dire anche una parola fuori luogo non ci riflettono. E quindi magari a volte potete sembrare anche un po' pesanti, un po' bacchettoni, ma perché semplicemente siete profondi. Invece l'altra persona, entrata con l'irruenza che abbiamo detto prima, fatta di tanta superficialità, però fatta di quei rumori della festa che ti riempiono la giornata e ti riempiono il vuoto interiore. Lui non vuole prendere decisioni, non vuole comunque migliorare se stesso. Un percorso non lo fa a muoversi neanche a dirlo. Cosa è successo? Lei è stata, lo ripeto, una scusa. È stato un alibi per poter, diciamo, continuare a vivere, vivere bene in un contesto nuovo, servito e riverito in fondo, anche se tenuto alla catena, e per non dover affrontare questioni più importanti con voi. E infatti, guardate, c'è stata la caduta rovinosa e la fine del rapporto. Molto probabilmente c'è stata la rottura del rapporto con voi. È stata una cosa repentina, una cosa che magari ancora adesso non riuscite a comprendere. Non vi spiegate il perché, non vi spiegate il perché lui non torni da voi, non vi spiegate perché lei riesca a trattenerlo. Siete rimasti destabilizzati totalmente, e ancora non vi siete ripresi e non avete cominciato a ricostruire nulla. Quindi, prima variante, che dire? Questa persona al momento non torna. E ciò che lo ha colpito, comunque sia, lo ha preso della persona con cui sta, è tutto ciò di cui abbiamo appena parlato. E soprattutto il fatto che non lo mette nella condizione di doversi esporre. Andiamo alla variante numero verde. Eccoci qua. Vediamo un pochino con chi abbiamo a che fare. Allora, nella variante numero verde abbiamo una persona che molto probabilmente nella vita, soprattutto nell'ultimo periodo, ha dovuto affrontare dei drastici cambiamenti, vere e proprie morti e rinascita. Però vuol dire anche che questa persona è una persona che non ha prendente le idee chiare. Cioè, apre una situazione, poi la chiude, immediatamente ne apre un'altra. Però quando chiude, chiude in maniera definitiva. Cioè, questa è una persona con la quale non si può neanche ragionare per di tanto. Magari c'è stato uno screzzo, un litigio, voi avreste voluto chiarire. No, però questa ha chiuso. Non lo so, potrebbe anche essere il segno dei pesci. Non chiedetemi perché mai è una dinamica che spesso accade con il segno d'acqua. Ma soprattutto con il segno dei pesci. Quindi, questa è una persona che di ponti in bianco, all'improvviso ha chiuso la storia e ha detto che io me ne vado, senza nulla, spoglia, con il suo scheletrino, non necessitando veramente di niente, ma anche molto rigida. Questa persona è molto fredda e rigida, come modo di fare. Ha preso e si è andata via. Così. Si è allontanata. Sì, si è buttata all'avventura. Quindi, molto probabilmente, quando questa persona a cui pensate ha scelto di raggiungere l'altra con cui si trova adesso, non era minimamente convinto o convinta. Cioè, è partito proprio così, d'un bleh. Di punto in bianco. Però è perché il suo modo di essere, il suo carattere, il suo spirito, quello di intraprendere l'avventura, anche senza sapere dove questa avventura avrebbe potuto condurre. Soprattutto senza parlare, senza dare alcuna spiegazione. Ha preso e vi ha girato le spalle. Vedete? E è andato. Ma senza fretta. Si è preso anche i suoi tempi. Si è mosso con molta calma. Ha anche potuto forse scegliere tra più opzioni. Non lo escludo. Eh sì. Ha avuto la possibilità di poter scegliere, ecco, di poter soppesare, di poter valutare. Ha avuto la possibilità di riflettere, di eseguire l'intuizione, l'istinto, di immaginare prima la creatività, la possibilità. Soprattutto lui ha sempre la speranza comunque di riuscire nella sua vita, di riuscire a realizzare condizioni migliori rispetto a quelle che lascia, al suo voltare le spalle. Vediamo cos'è che di lei lo ha preso, soprattutto. Vediamo un po'. Che poi lo anche trattiene. Ecco, sì. Comunque si conferma il fatto che lui quando ha iniziato questa avventura ha cominciato così, come in questa carta, in bilico. Però talmente sicuro di sé, vedete? Talmente centrato. Probabilmente ci sono state anche tante chiacchiere. Magari eravate sposati, non lo so. O comunque c'era una situazione seria, concreta. è stato un andare in bilico su un filo con sotto tantissimi detrattori, ma questa persona ha chiuso gli occhi, come abbiamo detto. Ha voltato le spalle ed è andata. Ha tirato fuori un grandissimo coraggio e comunque ha fatto, diciamo, un perno solo su se stesso. Vediamo un po' però cos'è della persona con cui si trova che lo prende, lo prende, lo prende. I soldi, amici miei. Qui la scelta è stata ponderatissima, l'abbiamo detto. Vedete questo personaggio così fermo a riflettere. L'abbiamo detto pure con la carta di prima, quello dell'uomo girato di spalle. Questa è una persona che prima di scegliere ha riflettuto ed essendo calcolatrice, fredda e molto diretta, pensando ai fatti propri, ha riflettuto veramente bene e ha scelto una persona economicamente in una condizione migliore della sua. Se non in un'ottima condizione, questo è uno dei motivi che lo prende di più, una delle caratteristiche che lo prende di più. Sì, praticamente lui ha cercato ed ha trovato un contesto nel quale non deve fare niente per avere tutto ciò che vuole, si può sedere, stare sulla riva, aspettare, arrivano i frutti, arrivano anche i cadaveri dei nemici. Cioè lui in questa situazione con questa persona si trova bene, però questo bene è sempre un vantaggio e l'abbiamo detto, lui è una persona che è molto razionale da quel punto di vista. L'emotività è come se lui fosse bloccata e magari ne soffre pure, però non la sblocca, non la smuove. E tra le cose che lo prendono di questa persona c'è la totale indipendenza di questa persona e la capacità che ha praticamente di potergli dare tutto ciò che vuole. E quindi lui in realtà sta in una condizione di vita agiatissima. E non è che ne soffre, non è che sta lì al vantaggio economico ma interiormente soffre. Non è questo. Lui è ancora in bilico questo sì, però dalla prima condizione proprio da quando si è mossa all'inizio e da adesso c'è stata una possibilità anche di sedersi. Le ultime due carte sono le due carte della riflessione. Quindi vi confermo sempre, poi qui vedete c'è un'ombra dietro ve la faccio vedere meglio come l'ombra al tramonto. Il tramonto alla fine della giornata quando poi si prende la decisione si soppesa tutto si decide come agire. Ci sono state anche tanti pettegolezzi in questa situazione. Ah sì, anche come abbiamo detto prima molto probabilmente c'è stata gente che ne ha parlato o comunque è una situazione che si è venuta a sapere ma questa non è una persona che si fa scrupolo di pettegolezzi né si fa condizionare da questa cosa. Assolutamente. Anzi, in realtà neanche le ascolta. Anzi, non è neanche una persona che pettegolezzi di fa. Da questo punto di vista non è un pettegolo. Assolutamente no. Magari è un perché non è neanche un codardo. È un insensibile. È più un insensibile che un pettegolo o un codardo. Allora, la condizione interiore di questa persona non è però felice. Comunque sia c'è una persona che vuole mostrarsi appagato adesso. Ecco. Ed è probabile pure che voi l'abbiate rivista questa persona che vi capite di incontrarla. Voi fiutate che c'è qualcosa che non va. Fiutate che in fondo lui non è convinto. Però, per orgoglio comunque sia non ve lo darebbe mai a vedere. Però c'è qualcosa che non va e io penso che sia dovuto al fatto che l'altro o l'altra dopo un po' ha cominciato a chiudere i rubinetti di questo denaro. Quindi questa persona vorrebbe anche tornare però se torna da voi torna così afflitto. Viene a supplicarvi a scusarsi a chiedervi di essere ripreso che ha sbagliato tutto non ha capito i valori della vita. Ecco, sappiate però una cosa? Fondamentalmente lui la scelta l'ha fatta in maniera molto ponderata e secondo me in un futuro gli si ripresentasse una condizione del genere di grande vantaggio lo rifarebbe. Questa morte all'inizio questo mi dice che è anche un replicarsi degli stessi atteggiamenti delle stesse situazioni solo che io penso che questi pettegolezzi siano stati anche qualche voce giunta all'orecchio dell'altra persona che ha cominciato secondo me a chiudere i rubinetti del denaro e infatti guardate lui sta pensando sta riflettendo come ha pensato tanto all'inizio questa è proprio una persona che penserà prima di agire di capire qual è il contesto migliore pensa tanto in questa seconda variante la possibilità che lui torni che la lasci però il punto è quanto vi conviene riprendermi una persona del genere proviamo a vedere meglio se la lascerà guardate che spettacolo cioè guardate pensava prima guardate questi due mazzetti diversi aspetta ve lo faccio leggere meglio cioè pensatore e pensiero ci sta riflettendo molto sopra sì sì eh sì verrà a chiacchierare con voi guardate abbiamo discorsi e il sollievo cioè che vuol dire quello che lui vuole è alleggerirsi del vostro giudizio della vostra condanna lui verrà da voi a parlarvi afflitto ma ve ne dirà di tutti i colori per convincervi che non vi ha lasciato che ha sbagliato che si è reso conto che la lezione sarà fondamentale per capire cose molto importanti che se non avesse fatto questo errore non avrebbe mai potuto apprezzarvi pienamente che non vi ha mai apprezzato del tutto o che vi ha umiliato a volte vi ha trattato male vi chiede scusa non lo farà più già questo viene così ma tutto già ponderato e studiato nella sua mente vediamo un po' come va e sì voi siete al momento per lui perché la situazione in cui si trova sta iniziando a screditolarsi siete l'unica realtà possibile l'unico mondo l'unico contesto in cui lui può tornare perché io credo che non lo accetterebbero in molti questo personaggio non se lo riprenderebbero tanti aspetta vogliamo vedere un po' meglio la carta se ci fa un po' più di luce quindi lui secondo me torna torna con tante parole però tenete presente una cosa che è una persona apta abituata come torna e come se ne va lo rifa di nuovo quindi è quello che l'ha preso di più dell'altra persona il benessere materiale il benessere economico e si è trovato benissimo altro che e va bene variante verde andiamo con la terza variante andiamo con la variante azzurra cerchiamo di capire che tipo di personaggio abbiamo davanti qui abbiamo un bel personaggio anche un bell'uomo probabilmente sui 50 qualcosa in più oppure molto maturo questo è un personaggio che per il momento non si smuove non la lascia potere di volontà è una persona molto positiva probabilmente è iniziato questa nuova strada perché semplicemente ha fiutato che questa strada era un qualcosa di positivo per lui ma di positivo anche a livello molto profondo perché magari ha trovato un'affinità molto forte scusatemi perché a volte può succedere come noi a volte possiamo diventare gli amanti di qualcuno che è impegnato e scoprire che era la nostra anima gemella e me può succedere il contrario e perdiamo l'uomo che abbiamo accanto la donna che abbiamo accanto perché non era la nostra anima gemella eh sì guardate ve lo confermo questo è un uomo che se n'è andato perché si è innamorato veramente e ciò che lo prende di lei è che è innamorato è anche un amore ricambiato e vedete le carte le stiamo girando insieme la prima sensazione che mi ha dato quella carta la prima di lui seduto comunque su un trono che ha una forma cubica di pietra è che sta costruendo qualcosa di solido eh sì questo è quello che lui vuole fare quindi innanzitutto ciò che lo prende di lei è proprio l'amore si ritrovano pienamente e ve lo confermo guardate qui mi dispiace perché magari siete innamorati affezionati tutto quello che volete ma lui se n'è andato e non torna se n'è andato non torna e qui c'è proprio amore però andiamo a vedere un po' di più vediamo un po' che tipo di legame e cose varie guardate lui ne è proprio certo lui è sicuro di quello che prova si è avventurato contro le convenzioni probabilmente contro tutti l'ho pensato anche molto prima di agire ha riflettuto tanto ho avuto anche paura di sbagliare e probabilmente anche se ho pesato la possibilità di sbagliare e il fatto che voi non aveste più accettato il suo ritorno però lui lui ha guardato il suo orizzonte e si è messo in viaggio vedete all'orizzonte si vede comunque questo borgo di case o forse un faro non lo so no non è un faro il faro è in mezzo di solito al mare e lui si è ammantato di quelle poche cose delle sue convinzioni qui ammantato di rosso di passione di amore e è andato questa è una variante bellissima per loro però difficile di sofferenza per chi la sta guardando sì perché quando ha visto questa persona lui si è proprio innamorato cioè l'ha proprio riconosciuta come anima gemella e vabbè questo interattivo lo possiamo anche intendere perché noi da cosa siamo presi di lui e se ce ne andremo o no non per forza con un'altra persona qui comunque c'è una persona che ha sentito una fortissima dipendenza non è una dipendenza negativa ma è una comunanza di intenti di sentimenti di modo di essere quindi c'è stata una affinità immediata qui c'è proprio il colpo di fulmine che c'è rapporto carmico e si è trovata in difficoltà questa persona si è trovata in difficoltà perché non è che non ami voi o non vi voglia bene è solo che il sentimento per l'altro è diverso è più forte e più radicato e lui si è trovato a scontrarsi innanzitutto contro di lui per poter prendere una decisione si è dovuto mettere a nodo si è dovuto ha dovuto fare coming out con i suoi sentimenti ha dovuto ammettere che quella persona lo prendeva così tanto probabilmente neanche la conosceva eh sì e ha iniziato a sperare a sperare perché secondo me non si conoscevano di essere poi accettato e riconosciuto a sua volta queste fino adesso sono tutte comunque carte positive che parlano di un'unione che c'è e che comunque resiste a un'unione che resisterà e io credo che anche l'altra persona provi i stessi sentimenti come nella prima carta anche qui abbiamo un personaggio seduto su una specie di cubo di pietra su qualcosa di molto forte e radicato che sta attendendo che spera io credo che quei sentimenti siano proprio reciproci quello che lo prende di lei è anche ciò che lei mette in gioco per stare con lui comunque c'è anche il denaro in questo caso sempre perché dobbiamo contestualizzare non fermarci alla varola al senso letterale il denaro è anche il tesoro questa immagine ricorda anche un pochino la parte della chiesa poi dove ci sono le cose importanti e cose varie come un tesoro nascosto qui molto probabilmente la relazione è iniziata in maniera veramente clandestina e parallela forse lui può anche aver confessato a voi cioè potrebbe anche aver fatto quella cosa che fa tanto soffrire che però è anche sinonimo in fondo di correttezza dirvi che era innamorato e che se ne andava per questo vediamo un pochino le altre carte anche per capire se torna per adesso o la questione non torna allora il consultante in questo caso questa carta anche se è maschile riguarda voi voi che state chiedendo vediamo se tornerà da voi contrasto ci dà del gravidanza allora sì la situazione è stata una situazione che ha creato dei problemi interni alla coppia e anche dei problemi per voi gravidanza è semplicemente un qualcosa che è in là si sta preparando per poi venire fuori però questa è una gravidanza che è anche un gravame ed è molto pesante quindi io credo che voi stiate anche pensando qualcosa anche di agire forse voi lo volete anche ricontattare ci avete pensato ma non l'avete fatto ora da questo interattivo quello che vediamo è che qui c'è proprio legame amoroso e molto molto profondo ciò che lo prende di lei è il fatto che si sono riconosciuti ciò che lo trattiene è questo la lascerà dalle carte abbiamo il diavolo che comunque ha un legame anche qui vedete il diavolo non va interpretato sempre in modo solo negativo ha una dipendenza ma anche un legame e anche un legame carmico qui c'è un legame di energia profonda tellurica molto forte e ci va comunque quanto meno nel bene o nel male ci parla o di un legame o di un legamento comunque ci parla di un qualcosa che tiene trattiene a sé che non rende fluidi che crea comunque un blocco quindi per questa terza variante ragazzi ragazze la risposta è no non torna non torna e non è una questione di a breve o lontano questa è una persona che adesso è innamorata ed è appagata ed è anche ricambiata mi dispiace perché comunque ovvio se voi volete bene a questa persona questa cosa vi fa soffrire e la gelosia poi è un sentimento umano però almeno abbiamo soppesato un po' ciò che c'è dietro le cause attraverso le carte io vi ringrazio vi auguro buonanotte e dal prossimo interattivo